ciao ragazzi bentornati alla nuova puntata di ride with frank io sono francesco questo episodio nasce da una collaborazione tra me e l'homo watersports l'homo watersports è un'azienda scozzese che produce degli ottimi prodotti per adventure outdoor e watersports da qualche anno si è affacciata nel mondo delle moto adventure creando dei prodotti molto resistenti molto robusti ma soprattutto waterproof per questo video mi hanno mandato le loro dry bags adventure panniers che sono delle ottime borse waterproof che quest'anno monterò sulla mia trk 502 nei percorsi off-road e nei miei viaggi ma non perdiamoci in chiacchiere andiamo a montarli sulla mia moto capisco l'entusiasmo ma non avere fretta frank andiamo prima a dare un'occhiata sul sito di l'homo watersports parliamo un po di queste borse le l'homo adventure pannier dry bags sono un sistema di borse laterali robuste durevoli e soprattutto waterproof progettate specificamente per il mercato delle moto adventure come detto sono totalmente impermeabili e manterranno il loro contenuto asciutto anche in condizioni estreme il loro prezzo è davvero fantastico 58 sterline che al cambio sono circa 67 euro davvero convenienti seguono lo stesso stile delle loro già famose crash bar dry bags da 6,5 litri ma con maggiore capacità e possibilità di montaggio infatti la loro capacità è di 13 litri ciascuna ma ne esiste una versione identica molto più grande con capacità di 30 litri ciascuna più adatti a viaggio a lungo raggio queste borse sono state progettate per essere montate facilmente su ogni moto ogni dry bag è dotata di doppi cinghie e molte possibilità di ancoraggio viene fornita anche una robusta cinghia separata con raccordo in acciaio che permette di fissarle sopra o sotto la sella grazie a molteplici opzioni di montaggio disponibili queste dry bags possono essere anche utilizzate come spazio aggiuntivo da montare sopra un kit di valigie rigide o utilizzate singolarmente come una borsa sul portapacchi prima di tornare al montaggio vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivare la campanella in modo da non perdervi le prossime puntate questo piccolo gesto mi aiuterà a crescere e portare altri contenuti come questi qui sul canale detto questo ora sì che possiamo veramente procedere al montaggio io anche in Italia il momento è stato stato in seguito a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti